La scommessa di democrazia solidale si gioca sulla capacità di uomini e donne di buona volontà di assumersi la responsabilità di fare tanti piccoli passi, molto concreti, capaci di cambiare in cinque anni il volto della nostra città, da città ripiegata su se stessa a città aperta all'Europa. Il nostro programma non è un'esposizione di intendimenti generali, ma un elenco di cose concrete, raggiungibili e verificabili, come è nello stile di chi, nella propria vita personale e professionale, è abituato a rendicontare, a rendere conto. L'amministrazione comunale sarà una cabina di regia, capace di valorizzare le risorse del territorio in un unico progetto di sviluppo complessivo, economico, solidale.